contro Hassan Sunni Pirlo che ha portato la Juve in vantaggio su calcio di punizione il destro a fil di palo e c'è gol della raddoppio per Andrea Pirlo su punizione e su calcio di rigore i versi Lhasa per far sì del portiere indonesiano Pirlo! perfetto, spiazza Meiga pareggio della Juventus con Andrea Pirlo su calcio di rigore, 1-1